Ciao, saluti a tutti, vi saluto da Napoli, sono Caterina, vorrei presentarvi un'azienda Skyward Community e per chi non mi conosce ancora sono Katuna Tatushwili, con le qualifiche della società Skyward Community, sono mamma di tre bambini, due sono studenti e abbastanza affermati che è una grande gioia per una mamma emigrata e sono emigrata da tre anni e svolgo tutte le attività a distanza dal mio posto di lavoro. Ho esperienza di lavoro di strutture statali, quindi ho esperienza nella comunicazione e nelle relazioni in ambito medico, ho anche 18 anni di gestione in imprese private ed esperienza imprenditoriale nel settore delle vendite dei servizi. Sono una specialista certificato di lingua italiana a livello A2, avendo esperienza di comunicazione, dovevo creare un gruppo dirigente nella community Skyward che si è sviluppato in Francia, Georgia, Polonia, Spagna, Italia e Israele. Con l'aiuto del mio team in soli due anni sono stati investiti oltre 13 mila dollari. Tutto è successo grazie alla comunicazione online, però a fine di ora gli investimenti ancora stanno crescendo. Allora, allo stesso tempo di suo sviluppo, in questa fase del suo sviluppo, l'azienda ha offerto programmi di formazione certificati. Attualmente le specialità più richieste e altamente in cui il mio team attivamente è coinvolto. Allora, puoi immaginare che prima del 2014 le persone non stavano investendo letteralmente in nulla. C'era solo un'idea del desinteressato lavoro del creatore di questo progetto. E ora ti presento l'azienda Skyward Community, opportunità di offerte commerciali. Il progetto di cui parleremo oggi è di proprietà di Uneschi. Con una storia di sviluppo 40 anni, la proprietà intellettuale del suo progetto è stimato in 400 miliardi di dollari. Ed è dopo 40 anni di sviluppo che dal 2014 è diventata una grande azienda e un progetto che oggi ha le migliori opere del mercato. Lo stesso Anatori Uneschi ha già 73 anni ed è sicuro a 1000% che tutto questo si realizzerà nel corso della sua vita. Lui non ha rifiutato a realizzare questo progetto anche quando la sua vita è un progetto. E ancora chi sono collegati prima volta e non sanno ancora che cos'è Skyway, vi rispondo che Skyway è il trasporto che si muove su rotaie ad alta resistenza. Il progetto presenta una serie di vantaggi che distinguono Skyway a diversi modi di trasporto. La struttura della linea Sky si trova su sopporti che occupano poco spazio sulla Terra e non influenzano l'ecosistema. Il trasporto Skyway è controllato da un'autopilota, ciò riduce il numero di potenziali incidenti e l'aerodinamica del trasporto Sky consente di raggiungere velocità fino a 500 km. E anche la costruzione della struttura della Skyline richiede meno denaro per la costruzione di qualsiasi altro trasporto. Per me è molto importante svilupparsi insieme con quella azienda, quindi io credo in questa azienda, sperando un futuro migliore. Allora, sostengo la tecnologia Skyway sperando in un futuro migliore. In pratica utilizzando questo trasporto possiamo portare le persone alle cure di emergenza più rapidamente e ottenere interventi chirurgici con un rapido trasferimento alla clinica necessaria. Anche tutti i servizi possiamo fare acceleramente. Skyway ha la sua comodità, velocità e disponibilità dappertutto, quindi lo sviluppo tecnologico già è disponibile per tutta l'umanità e la linea Sky sarà dappertutto. tra poco speriamo. Allora, solo una persona, un creatore e qualsiasi persona da solo non può fare niente. solo con una voglia non è possibile fare grandi cose, però noi insieme possiamo cambiare la nostra vita e possiamo curare la nostra pianeta e diventare migliore anche stesso. Allora, tu potresti chiedermi perché non usiamo un'auto ibrida, no? Ma io ti dico che quando carichi l'auto ibrida in pratica devi collegarla a una centrale elettrica che funziona di nuovo a un'altra materia prima che quindi crea danni alla natura. I costi operativi sono 20-25 volte inferiori rispetto al trasporto su strada già esistente. e la produzione di energia è al minimo perché genera energia più che sufficiente e non dipende dalla centrale. E questo è molto importante, abbiamo un stabilimento di produzione, un centro di innovazione nel Sarja, Mi e Minsk dove lavorano 3.000 ingegneri, struttori esperti che gestiscono ogni dettaglio del futuro trasporto con la massima precisione e qui voglio dirvi che ogni dettaglio ha 100 anni di garanzia che non è la storia umana prima di quello. Allora, quindi quando costruisci costruzione di Skyway allora consumi 20-25 volte meno funibile perché non abbiamo bisogno di raddrizzare il paesaggio, versare acqua, rompere le rocce. Per costruire questa strada sono necessari solo solidi supporti con un binario di fune per viaggiare e fornire servizi di consegna con trasporto più veloce. Esistono tre tipi di passacorte rigidi, semirigidi ed elettrici. Ognuno ha dei quali ha il proprio tipo di binario. Come sappiamo un trasporto di un'auto quando accelera ad alta velocità deve fare i conti con il fusto d'aria in arrivo e si chiama resistenza aerodinamica. Il nostro Sky Transport è milla volte più facile da gestire che allo scappo affilato e in grado di raggiungere velocità di 500 km in un'ora. Li possiamo trovare in natura dove ci sono i progetti già realizzati. Qui è una bella squadra, allora vedete dappertutto, come è comodo anche vicino a natura. E vi dico che trasporto urbano ad alta velocità può raggiungere 500 km in un'ora. Unibus ad alta velocità può spostare da 4 a fine di 24 e con la sua produttività 500.000 passeggeri al giorno. Una bella cifra, no? E anche un altro trasporto urbano, Unibus, può spostare 28 o 168 persone. E con la sua produttività è durante al giorno 50.000 passeggeri. Anche un altro Unicar, anche 50.000 passeggeri può trasportare in un giorno. Anche Unicont, questa è una macchina di merci che può spostare 200 tonnellate di prodotti e creare invece di traffico a una comodità e sulla strada avremo solo le macchine per la famiglia. Allora, macchine solite e sopra, come avete visto, camminano questi merci che danno facilità di viaggiare in altri trasporti. L'unibus che può raggiungere 150 km per un'ora con la sua capacità da 14 a fine di 84 persone può essere utile con la sua produttività fino a 50 passeggeri al giorno. E merci che possono lavorare per ritirare pesce, eccetera, eccetera. Allora, sappiamo che le strade sono congestionate senza auto che con la loro emissione possono causare inquinamento e molte malattie. Purtroppo ci sono anche paesi che dovranno essere un atto legge sulla sicurezza perché la mancanza di sicurezza è la causa in molti incidenti. Negli anni 70 esistevano questi problemi di inquinamento e sicurezza e nel 1978 il signor Andoli Luneschi, scienziato, inventore proteggista di navi volanti, presentò il suo primo articolo scientifico dopo cinque anni di ricerca sull'atmosfera. E in cinque anni l'atmosfera è stata molto inquinata e continuare così per decenni avrebbe esposto la popolazione a sconosciute malattie purtroppo adesso. Questa situazione esiste, no? La circolazione ha causato a decenni problemi. È una strada sovrofolata, la mancanza di sicurezza e il dispendio di energia colossale. E per i propri interessi, i propri obiettivi, l'umanità ha danneggiato la natura i paesaggi. Stiamo battendo foreste, prosciugando i fumi, i bacini idrici, distruggendo montagne e sciogliere. E quindi la natura risponde con disastri. E per cui la nostra vita sta cambiando. Sta peggiorando purtroppo. Però per oggi abbiamo la possibilità di salvaguardare il nostro pianeta. e i modi tipi di transport già esistono, che sono progetti già realizzati, eccetera. E loro funzionano su Eco Park, in Eco Tecno Park, in Bela Russia e in Arab Emirati Uniti. E allora ogni partner della società Cyborg Community è in una posizione mereditizia. La legazione dalla Italia e dalla Georgia per me mi fa credere che mi sono entrata in un'azienda giusta e in un progetto reale. Allora, qui in questa azienda è possibile firmare un successore e anche ricevere entrare aggiuntive da programma di partnership. Di qui parleremo in un incontro specializzato per gli interessati. Il vantaggio e il fascino della nostra azienda sta nel senso che è una forte riunione di persone con obiettivi e valori comuni. e le rappresentanti oltre 200 paesi sono attivamente coinvolti della nostra azienda. Allora, sta nel fatto che una forte riunione di persone con obiettivi e valori comuni e i gente sono coinvolti in questo progetto per ottenere un reale benessere finanziario che è già diventato un processo irreversibile di cui parlano i progetti già realizzati, pianificati e firmati. Questo è il motivo per cui Sky Transport e il trasporto necessario è più richiesto nella storia dell'esistenza umana. c'è anche un sito dove puoi vedere un elenco completo di una serie di permessi e certificati che riflette 40 anni di puro lavoro dell'Anatoli Uneschi in quali ha dedicato la maggior parte della sua vita e del suo lavoro. è una persona sperosa che a mio avviso lascia una volta fra mille anni. Quindi io sostengo l'azienda Skyward Community sperando in un futuro migliore. è tutto questo che abbiamo parlato. Allora quindi quando entri nella nostra azienda il tuo profitto è tirate i dividenti guadagni da programma di partner ereditarietà disposizione sulla restituzione del denaro diventi con proprietario tecnologie partecipa a un progetto ambientale ampio e globale per salvare la nostra pianeta blu passi alla storia come una fino al troppo e crei capital per una vinta spensierata hai la possibilità di viaggiare per raggiungere Dubai e non solo Dubai attestato per raggiungere le azioni il valore nominale del tuo acquisto è direttamente proporzionale al numero delle tue azioni Personalmente per me è stata una grande gioia rendermi conto di aver comprato 120.000 dollari per te soli 1.000 dollari cosa che non avrei potuto fare nella vita reale cosa dovrei fare per guadagnare questa cifra o in quanti anni potrei risparmiare così per me per me che l'azienda Skyward Community è diventata il senso e il supporto della mia vita e le mie azioni per oggi sono ancora di più cosa è più importante che per te è importante che ci sia un prodotto reale che puoi visitare, giocare e sentire alla sua velocità e comodità per te stesso non ho bisogno di essere paragonato a nessun'altra azienda questo è un unico progetto ecologico globale che ci offre per interessarti Ecotecnopark è stato realizzato e operativo per la Russia nella città di Marina Golga e nei Emirati Arabi Uniti in particolare città di Sharjah nella città di Sharjah nel centro di innovazione attorno all'università americana dove è già possibile visitarli l'università americana dell'Emirati Arabi c'è una linea di prova del nostro trasporto che opera per 15 km intorno all'università questa distanza comprende 21 stazioni ogni visitatore può sperimentare in conforto e viaggiare con l'auto a linea stritta del futuro e allora per me personalmente per i molti partner è diventato ancora più credibile che l'Italia sia tra i 200 paesi partner e ora ti dico da dove prendiamo esattamente i nostri benefici allora il 32% della quota del valore delle tecnologie viene messo in vendita sotto forma di azioni e con gli investimenti pubblici si effettua l'acquisizione di azioni e noi diventare con proprietari di tecnologie innovative e la società Sky World Community è stata registrata in Inghilterra sulle isole e allora isole vergini dove come società europea nel 2014 e pertanto i diritti di single co-partner sono scritti e tutelati della normativa europea inoltre di ordini di partecipazione e inviato dal registro pubblico inglese all'indirizzo indicato e dopo la registrazione allora le sue fasi di sviluppo sono state suddivise in 15 fasi e ad oggi abbiamo completato la quattordicesima fase del suo sviluppo e siamo prossimi alla quindicesima fase e già quest'anno la società Sky World Community è stata introdotta con il nome cambiato di String Technology è tecnologia delle stringhe Unesti comodo allora da pronunciare allora i pacchetti azionari partono da 250 dollari e arrivano fino a 150.000 dollari a seconda dell'interesse degli azionisti con le risultate di qualsiasi classe sociale può investire è possibile usufruire di rate internet a tasto zero su pacchetto azionario allora non perdere il tempo per ottenere maggiori informazioni e fornici subito al tuo invitato il link di registrazione e fissa un incontro per dati più specifiche nella direzione che ti interessa quindi quando entri nella nostra azienda per te la vita diventerà più interessante quindi qui abbiamo la possibilità di svilupparsi e essere certificato e essere specialista a laver oggi allora sul nostro sito dopo la registrazione sulla tua pagina avrai offerte azioni delle azioni dove puoi scegliere con la tua volontà quale pacchetto delle azioni allora e puoi trovare anche tutti i suoi diritti adatto con allora legge europea qui è possibile usufruire si o il rate interne a tasto zero sul pacchetto azionario abbiamo detto non perdere il tempo e collegati con noi se tu senti dentro di te che questo è un servizio che vorrai fare nel corso della tua vita e svilupparsi sempre e creare una vita spensierata della quindicesima fase si sta già spostando sul mercato mondiale e noi ci stiamo avvicinando alla maturazione dei dei dividenti e che cambierà la nostra vita il trasporto esiste davvero e lo facciamo ancora si adatta a tutte le condizioni climatiche al suo corpo è resistente alle radiazioni converte l'energia solare e luce del giorno in elettricità e più può letteralmente servirci senza sosta e muoversi ad alta velocità che è importante per te alla fine che c'è ancora la possibilità di unirti in questo progetto ambientale più globale è unico e senza precedenti e cambiare la tua vita in medio SkyM è un trasporto unico che salverà la vita ai milioni di persone centinaia e anche migliaia di ettari di paesaggi miliardi di animali e uccelli e permetterai ciascuno e la vita è così che abbiamo visto tante malattie che le aziende devono completarsi noi dobbiamo continuare la nostra vita in maggior parte l'azienda attiene conto anche dei nostri diritti secondo la legislazione europea e godiamo di tutti i diritti del comproprietario questo è un grande per noi il produttore e creatore il signor Anatole Iuneschi che presenta una relazione a nulla sul lavoro svolto la nostra vita a una disposizione del denaro per esempio se decidi improvvisamente di lasciare azienda l'azienda ti offre di aggiungere più 4% a determinare condizioni e restituire i tuoi soldi come mutuatario spiego bene tuttavia che se qualcuno dovesse lasciare l'azienda con questa richiesta però questo richiede precedente allora non è stato finora rilevato allora il nostro si allora siamo allora funziona funziona tramite i pannelli solari e anche il suo corpo può convertire l'energia solare eh in elettricità e lavorando praticamente senza sosta ma i termini di trasporto passeggeri può trasportare un numero molto maggiore invece di 4 ore rispetto ad altri altri trasporti esistenti i termini di inquinamento siamo a zero sostanze nocive quindi nessun danno per natura per la natura non esistono i termini di inquinamento incidenti è il più sicuro perché evita fisicamente tutti i veicoli esistenti ricordiamo che oggi abbiamo tre tipi eh di veicoli che necessario che necessitano di consumo trasporto maritimo terrestre e aereo però Sky Transport è la nostra linea ma solo che da una mano per migliorare la nostra vita è completa i precedenti e la nostra vita diventa migliore migliore allora allora ancora vi devo salutare io mi sono stata Caterina da Napoli era la società Uneskis Big Technology con le sue offerte opportunità e sono stato attratto dalla qualifica dell'investore libera di questa società grazie per l'attenzione e credo che tutti insieme potremmo cambiare la nostra vita migliorare il nostro salute e salvaguardare la nostra pianeta salute a tutti